La situazione dei contagi è in netto peggioramento, 5 regioni diventano arancioni, e il governo è ormai sfiduciato apertamente dai renziani. Conte potrà uscire da tutta questa situazione e come? Subito dopo la pubblicità. Massimo Giannini, anche oggi è stata una giornata di incontri, non ultimo quello con la capi delegazione, insomma il governo sta faticando molto a ritrovare una sua unità, e oggi peraltro la ministra Bellanova, ministra renziana, ha sfiduciato apertamente, ha detto che Conte è al capolinea, quindi sfiducia al governo, quindi una ricomposizione ormai impossibile secondo te? Ma sappiamo bene che la politica è l'arte del possibile, la variante italiana, come diceva Lunganesi e Flaiano, è che la linea più breve tra due punti non è la retta ma è l'arabesco, quindi io sono convinto che ancora i giochi siano tutti aperti. Renzi era partito da un'istanza giusta, e cioè dalla constatazione del fatto che il piano italiano per il recovery fund era largamente insufficiente, la bozza che aveva preparato il Presidente del Consiglio insieme con i suoi ministri, oltre all'architettura organizzativa che doveva gestire quel piano, la cosiddetta task force era decisamente insufficiente, però dopo su questo Renzi ha innescato una partita personale, diciamolo chiaramente, l'obiettivo di Renzi è quello non già o non solo di migliorare il recovery plan, di organizzare al meglio la gestione dei servizi segreti, ma liberare il Paese e in particolare Palazzo Chigi dalla figura di Giuseppe Conte, questo è l'obiettivo fondamentale di Renzi. Non ci è riuscito, mi sembra di poter dire, usando un verbo al passato, che questo schema è superato per una banale ragione, cioè l'operazione a Renzi sarebbe potuta funzionare se avesse avuto la sponda del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Questa sponda, da Zingaretti e da Di Maio, per buttare giù Conte in via definitiva, Renzi non l'ha ottenuta. Quindi adesso deve trovare una exit strategy rispetto al suo obiettivo fondamentale. La cosa, secondo me, più probabile a questo punto è che si possa arrivare a un Conte Ter, ma questo deve passare per o una sfida parlamentare precedente, oppure per il fatto che Conte vada direttamente al Quirinale a dimettersi e ottenga immediatamente il reincarico. Però rispetto a questo c'è un ultimo caveat, Conte ha paura di farlo perché se si dimette poi non è sicuro che ottenga subito il reincarico. Siamo incartati su questo da un mese, intanto il Paese purtroppo ha ben altri problemi. Il Paese avrebbe ben altri problemi, Antonio Padellaro. Tu sei d'accordo con l'analisi di Massimo Giannini? Certamente. Diciamo che sono le dimissioni più lunghe della storia politica italiana, perché da circa un mese le ministre del governo Conte si stanno dimettendo e c'è un'ossessione di Renzi e dei suoi per le interviste, per apparire in televisione, dire attenzione, qui rompo tutto. Abbiamo calcolato 54 interviste e dichiarazioni sui giornali nell'ultime tre settimane, Comunque, per venire al punto, ormai i giochi sono fatti, nel senso che in queste ore o Renzi accoglie le modifiche che Conte ha fatto al recovery plan e quindi si va tutti quanti insieme a una trattativa più larga, perché ci sono altri punti, come per esempio il controllo sui servizi segreti. Se invece si va alla rottura, è quasi certo che Conte, anzi si può dare con sicurezza, che Conte presenterà il recovery plan in Parlamento, perché è quasi un obbligo che noi abbiamo con l'Europa, perché ci sono stati dati dei tempi, non possiamo aspettare e quindi si presenterà in Parlamento con il suo progetto, senza l'accordo con Renzi, e chiederà il voto sul progetto italiano del recovery plan. E lì si vede chi vota a favore e chi vota contro, chi si assume la responsabilità di bocciare il piano italiano che dovrebbe farci arrivare 209 miliardi. Vedremo. Quindi vorrebbe dire che comunque Conte, per andare alla conta, sa che ha dei cosiddetti responsabili che non li farebbero mancare la maggioranza. Io non credo che Conte stia telefonando ai responsabili dicendo mi date il voto. Io credo che ci sarà un momento, come dire, di responsabilità o di opportunismo, perché la politica è anche fatta di questo, nel quale tutti i parlamentari dovranno decidere che cosa vogliono. Se vogliono, tanto bocciare il recovery plan e quindi interrompere, attenzione, è una cosa delicatissima, interrompere in qualche modo gli aiuti che l'Europa ci vuole dare, andare quindi a elezioni anticipate, oppure se si vuole andare avanti, sia pure in maniera rabberciata, perché certo che questo non risolve i problemi del governo Conte. Marolina Sattanino, ci sono tante questioni che sono state messe sul tavolo. Io a te comincerei col chiedere del Quirinale dell'Europa, anche perché Renzi è convinto che il voto anticipato non ci sarà mai. Peraltro Zingaretti oggi ha detto che il voto è un rischio reale. Ci spieghi un po' cosa sta succedendo nelle stanze del Quirinale e in quelle europee? Beh, diciamo che escludere il voto anticipato in un ragionamento politico è impossibile, ma bisogna sempre tenere conto anche che sarebbero votazioni in piena era Covid. Quindi, sì, è vero, in America si è votato, però in America il 50% degli americani ha votato per posta, cosa che in Italia non è possibile. In più, una crisi di governo ci porterebbe a perdere tempo. Il Presidente della Repubblica ha detto nel suo messaggio di fine anno che non bisogna perdere tempo. Nel frattempo il tempo però si sta perdendo, nel senso che l'attesa della crisi è una crisi essa stessa. Quindi Mattarella ha visto, sta vedendo, sta sentendo naturalmente tutti i protagonisti della scena politica di questi giorni. Naturalmente avrebbe fatto il possibile per evitare una crisi, ma naturalmente se Conte salirà al Quirinale e si dimetterà dovrà prenderne atto. Mattarella ha sempre detto che era per una parla... Ma tu pensi che Conte salirà al Quirinale per dimettersi a un certo vala fine? Beh, bisogna vedere. A questo punto è tutto molto ambiguo, nel senso che anch'io sono convinta, come Giannini, che ormai per Renzi è un prendero-lasciare, nel senso che ha messo le cose in maniera tale che se non mette in crisi il governo Conte perde la faccia. E' anche vero che in questo momento non sembra che nessuno sia in grado di tenergli testa. E' appunto. E' l'Europa. In Europa certamente qualcuno è andato a raccontare quello che stava accadendo in Italia, al di là di quello che scrivono i giornali e di retroscena che si possono leggere. Ursula von der Leyen è molto grata a Giuseppe Conte per i voti dei grillini quando in Parlamento è stata eletta Presidente della Commissione, ma ritiene anche di aver pagato questo debito appoggiando la richiesta dell'Italia di essere la maggiore beneficiaria del piano Next Generation EU. E quindi in questo momento non può che constatare l'Europa la debolezza di questo governo. I ritardi nel piano, un piano che noi saremmo dovuti essere i primi a presentarlo e nella maniera più efficace. Il problema dell'Italia poi non è il come, non è il cosa, è sempre il come si fanno le cose. C'è stato il piano Colau, ci sono stati gli stati generali. In fondo si è andato al fondo di quello che il Paese poteva dare. Perché non chiudere prima? A proposito di tempo, anche lì forse si è perso un po' di tempo. Professor Richeldi, il tempo però nella battaglia contro il Covid è fondamentale. Le volevo chiedere due cose. Uno, arrivano anche a voi del Comitato Tecnico Scientifico segnali di una prossima crisi di governo? Che cosa significherebbe per il contrasto al coronavirus? Nel momento in cui il Ministro Speranza in serata ha detto che siamo al massimo livello di attenzione, il virus circola molto e l'indice di contagio è in crescita. E poi abbiamo in corso anche già avviata la campagna di vaccinazione. Sì, dunque al Comitato Tecnico Scientifico non arriva nessun tipo di feedback né di sensazione di tipo politico. Ognuno di noi, siamo tutti cittadini, tutti leggiamo i giornali e i siti, quindi ognuno di noi ha la propria sensibilità. È un comitato, come tutti i comitati tecnico-scientifici, non è l'unico che parla un linguaggio tecnico e un linguaggio scientifico. Quindi l'interlocutore è importante che da una parte ponga le domande giuste e dall'altra ascolti le risposte che arrivano dal comitato. Poi quello che l'interlocutore farà ovviamente dipende anche dalle sfumature politiche e dalla tipologia di approccio che avrà. Però questo non riguarda assolutamente il comitato tecnico-scientifico. Oggi il Ministro ha fatto un'allerta, secondo me, molto chiaro e molto sostanziato dai dati che arrivano all'Istituto Superiore di Sanità. Si è fermata la discesa del numero dei casi, c'è un minimo di risalita in alcune regioni. Le strutture sanitarie sono ancora sotto pressione, fortunatamente non come quello che vediamo in altri paesi, anche molto vicini ai nostri. Però è il momento di stare molto attenti, proprio per quello che ha detto lei, anche perché il servizio sanitario è impegnato su un ulteriore fronte. È un fronte positivo in questo caso, siamo contenti di essere più impegnati, però ci sono anche le vaccinazioni da portare avanti. Vaccinare non è una distribuzione normale di un farmaco, non è una cosa semplice da fare, ma richiede un impegno molto oneroso e molto importante per tutto il sistema. Massimo Giannini, per tornare ai partiti che formano questa maggioranza di governo. Antonio Padellaro ha detto che la strategia del PD è quella del morto a Galla. Oggi però Conte è stato, Bezingaretti è stato molto chiaro su Conte, no? Conte non si tocca o cosa dice il Partito Democratico? Perché voi, noi abbiamo detto, scritto, che comunque faceva comodo anche al Partito Democratico che Renzi andasse avanti e facesse un po' il bullo con il Presidente del Consiglio. Sì, sono alcuni mesi che il PD dà la sensazione, appunto, come dice efficacemente Antonio Padellaro, di adottare la strategia del morto a Galla. E cioè lascia fare agli altri e nel frattempo galleggia. Anche perché questo, sondaggi alla mano, sembra in qualche misura premiare il Partito Democratico. La strategia del galleggiamento sicuramente fa sì che per adesso i consensi al segretario continuano a mantenersi su un livello stabile o anche talvolta in lieve crescita. Quindi, da questo punto di vista, finora, anche a costo di apparire inerte, il PD è stato piuttosto fermo. Adesso è un momento nel quale fermo il PD non può più stare. Io oggi mi sono letto tutta la relazione che il segretario Zingaretti ha fatto nella direzione straordinaria, convocata appositamente, non a caso oggi. L'ho trovata, devo dire, molto condivisibile e convincente. Intanto c'è una prima parte di analisi su quello che è successo negli Stati Uniti e non è casuale anche questo riferimento perché la delegittimazione della democrazia che Trump ha operato laggiù, essendo il populista che conosciamo, ci riguarda da vicino perché gli sviluppi politici che abbiamo di fronte potrebbero portare ad un equilibrio, non voglio dire trumpiano, ma quasi. I sovranisti di casa nostra, non per caso, sono quelli che hanno guardato a Trump e che anche alla luce dei disastri che sono successi in questi giorni negli Stati Uniti sono stati più morbidi o comunque ambigui su Trump. Dopodiché Zingaretti ha detto due cose fondamentali oggi, mi sembra, confermando quello che dicevo prima, cioè non ha fatto gioco di sponda a Renzi nel tentativo di buttare giù Conte. Cioè da una parte Conte è l'unica alternativa che abbiamo, non ce ne sono altre. Quindi si fa quadrato su Conte. Dopodiché naturalmente questo non significa che le cose vanno bene così, significa viceversa, e qui c'è il secondo aspetto che mi interessa e che secondo me alla fine potrebbe essere il punto di caduta finale di tutto questo pasticcio ipolitico, bisogna fare un patto di legislatura, cioè ci si mette al tavolo e si dice adesso il programma era questo, fino adesso abbiamo fatto alcune cose, altre no, dobbiamo arrivare a fine 2022 e il tempo che ci manca lo dobbiamo impiegare per fare questo, rinsaldando il patto di maggioranza. Mi sembra una strategia ragionevole, la condivido, si tratta solo di capire se Renzi vuole cogliere questa opportunità oppure portare non solo Conte ma tutto il Paese in un gorgo nel quale non so come potremmo uscirne. Antonio Patellaro? Allora intanto ha ragione Massimo Giannini, la relazione di Zingaretti di oggi in direzione dimostra che ha cominciato a dare delle bracciate il Partito Democratico e non sia contento soltanto di assistere a ciò che avviene. A me ha colpito molto l'accenno che ha fatto Zingaretti al pericolo che in un vuoto politico che potrebbe crearsi in Italia si possano inserire anche elementi di tensione sociale. Insomma abbiamo visto quello che è successo a Washington, ora lì sono stati superati tutti i limiti con l'assalto alle aule parlamentari però pensare che un Paese come il nostro che vive una crisi devastante dal punto di vista economico possa accettare, questo mi sembra che abbia detto Zingaretti, i giochini della politica, il gioco del rinvio e addirittura correre il rischio di perdere l'appuntamento con gli aiuti europei questo potrebbe mettere in moto degli sviluppi imprevedibili perché attenzione, senza andare a processi emulativi l'assalto al quartier generale è avvenuto in una delle capitali del mondo e questo le persone l'hanno visto e si stanno facendo alcuni anche l'idea che magari, insomma, se qui si tira troppo la corda qualcosa potrebbe succedere quindi mi sembra che Zingaretti abbia detto delle parole molto importanti. Mariolina Sattanino, tu sei stata per tanti anni corrispondente della RAI dagli Stati Uniti Le immagini che abbiamo visto da Washington ci hanno atterrito, inquietato tutti Indicibili, sono immagini veramente indicibili Ecco, ma scusami Mariolina, quando però Antonio Padellaro oggi scrive occhio a tutti i Trump, anche a quelli italiani ha ragione a segnalare questo pericolo che i Trumpiani di casa nostra sono Salvini e Giorgia Melone, no? Beh, bisogna vedere più che altro nel loro elettorato se con il Covid c'è un'esasperazione della condizione di povertà un'esasperazione, adesso la crisi economica vera non è nemmeno ancora esplosa perché a marzo scade la cassa integrazione il blocco dei licenziamenti ci sono cartelle esattoriali che arriveranno adesso non per fare la Lega e la difesa delle partite IVA ma il problema è che ci può essere un tasso di disperazione nel paese tale da poter, non dico giustificare ma da poter generare un rischio e il rischio è che poi alcune forze politiche lo possano cavalcare noi ci auguriamo ovviamente tutti quanti di no ma le reazioni a quello che è successo in America non fanno ben sperare nel senso che per esempio perfino Marine Le Pen in Francia ha condannato esplicitamente Trump si vorrebbero parole più chiare senza appellarsi alla condanna della violenza generica o addirittura a cose che francamente lasciano estremamente perplessi come le dichiarazioni di Giorgia Meloni che però più autorevolmente di me sono state già abbondantemente criticate quindi insomma è una situazione comunque a rischio prima di tornare su Giannini e Padellaro su questo fronte la voglio reinterpellare professor Richeldi perché appunto noi possiamo discettare di politica italiana ma non possiamo prescindere dall'andamento del virus allora la Francia dei nostri partner europei la Francia ha inasprito le misure Gran Bretagna e Germania sono in lockdown le voglio chiedere il boom di nuovi contagi in Europa è dovuto alle due varianti quella inglese e quella sudafricana del covid e noi in Italia cosa ci dobbiamo aspettare? che ancora non è arrivato? che arriverà? io credo che molte delle situazioni che vediamo in paesi vicini ai nostri siano anche dovute a scelte particolari che quei paesi hanno fatto ed oggi ad esempio la notizia che la Svezia ha per la prima volta deciso di prendere misure che sono misure molto simili a quelle che hanno preso gli altri paesi dopo un'iniziale invece strada alternativa che si è dimostrata abbastanza catastrofica stessa cosa l'Inghilterra che ha messo l'obbligo delle mascherine solo da qualche giorno e non è molto rispettato peraltro più che delle varianti secondo me ci dobbiamo preoccupare delle misure che sono misure che devono essere proporzionali a quello che avviene quindi quando i paesi vanno in lockdown è chiaramente perché l'epidemia è fuori controllo l'incidenza è troppo alta l'indice RT supera quelle misure che ormai conosciamo noi abbiamo tra virgolette inventato non noi nel senso l'Istituto Superiore di Sanità al Ministero questo sistema a zone tra le regioni che devo dire per ora ha dimostrato comunque di funzionare di usare comunque dei risultati di mitigazione della diffusione dell'epidemia che fanno sì che i servizi sanitari siano ancora in grado di poi dare quei servizi fondamentali che ricordiamo tutti gli altri malati hanno diritto di ricevere e devono ricevere ai massimi livelli Senti professor Richeldi ma l'Italia è pronta per la campagna vaccinale di massa? Parrebbe di sì sinceramente perché in una settimana settimana tra l'altro che conteneva anche delle ferie sono state distribuite circa un milione di dosi del vaccino l'unico finora disponibile e mezzo milione è già stato somministrato quindi le campagne di massa vaccinali come ho detto prima sono operazioni che pongono a dura prova qualsiasi sistema devo dire che per ora il sistema ha dimostrato di funzionare speriamo che altri vaccini arrivino e che il numero delle dosi non sia più il numero e l'elemento limitante come invece avviene in questo momento Senta ma lei sarebbe favorevole a rendere il vaccino obbligatorio almeno per le varie categorie di operatori sanitari? Io sarei favorevole a una misura che dicesse che gli operatori sanitari che decidono liberamente di non vaccinarsi ne abbiano il diritto ma non possano poi attendere a quelle mansioni che possano mettere a rischio dei pazienti perché è nella nostra natura nella scelta che abbiamo fatto di fare il bene dei pazienti e se uno non lo fa è bene che cambi mestiere Massimo Giannini questo sarà un ulteriore problema presumibilmente nelle prossime settimane nei prossimi mesi per il governo vorrei tornare ancora adesso in conclusione sui trampiani di casa nostra diceva Mariolina Satanino Satanino che la crisi economica in realtà ancora non è esplosa in tutta la sua drammaticità che quindi non possiamo escludere che insomma ci possono essere anche in Italia delle esplosioni di rabbia e cavalcheranno i trampiani di casa nostra questo malcontento oggi per esempio in serata Salvini ha detto che da governo c'è un teatrino imbarazzante insomma diciamo la collaborazione di Saldini e Meloni con il governo è tuttora inesistente mai ci sarà temo io spero di no ma temo di sì nel senso che fino adesso ricordiamolo l'Italia era stata individuata da uno dei principali esponenti del trumpismo Steve Bannon che poi ha fatto una brutta fine nel senso che è finito in un'inchiesta giudiziaria e ora è agli arresti domiciliari ma per un lungo periodo nella fase del trumpismo da combattimento è stato l'avamposto mondiale del nuovo modello sovranista populista autoritario che Trump incarnava e aveva lui stesso detto che l'Italia era il laboratorio del nuovo sovranismo planetario l'Italia e aveva trovato proprio in Italia le due sponde principali che erano Salvini da una parte e soprattutto Giorgia Meloni dall'altra quindi questo è il retroterra le reazioni che l'uno Salvini e l'altra Giorgia Meloni hanno avuto agli incidenti al mezzo dire incidenti a dire nulla al quasi golpe americano di questi giorni mi hanno preoccupato non poco perché speravo che la stagione del flirt con Bannon e con Trump fosse terminata e invece sentire la Meloni che ha parlato genericamente di un rifiuto della violenza senza dire che quella violenza era stata istigata da Trump mi ha molto inquietato allora mi viene da pensare che appunto a marzo finiranno la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti non so che cosa succederà dopo e non so neanche dire purtroppo quale governo gestirà quella matassa spero che continui ad essere questo perché un'interruzione governativa da questo punto di vista sarebbe due volte pericolosa ecco temo però che il terreno fertile della rabbia sociale del rancore che ha determinato la vittoria di Trump ricordiamolo Trump vince perché dà voce o fa illudere che protegga il cosiddetto forgotten man l'uomo dimenticato il ceto medio proletarizzato che si sente escluso dalla vita economica e anche da quella politica possa riprodursi anche qua le democrazie muoiono così oggi non per i golpi militari ma per questo tipo di delegittimazione del sistema quindi io sono preoccupato da questo punto di vista sì sì attenzione alla seconda ondata sovranista nel senso che in America adesso con la presidenza di John Biden c'è l'occasione per i democratici per cercare di riunificare sarà molto difficile il paese ma la stessa occasione non dobbiamo perdere in Europa perché non dimentichiamo che le ultime elezioni europee i sovranisti sono stati sconfitti dai partiti che si richiamano i valori europei ora se queste forze complessivamente non riescono a superare la crisi che purtroppo provocata dal covid e mettono in moto meccanismi di tensione sociale di rivendicazione di protesta e allora sarà difficile impedire che Salvini e Meloni che attenzione hanno già secondo i sondaggi la maggioranza certo nel Parlamento Italiano vincano tutto il piatto e il prossimo governo sia quello loro staremo a vedere quello che succederà io intanto vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché abbiamo parlato del recovery plan e il recovery plan è una questione soprattutto di denaro e quindi di potere guardate il piano Marshall rapportato al PIL aveva un impatto inferiore al recovery fund eppure fu gestito da una struttura straordinaria creata ad hoc come ricorda l'ex ministro Giorgio Lamalfa quando propone che per spendere i 209 miliardi in arrivo dall'Europa si replichi il modello che grazie al commissariamento ha consentito di ricostruire in tempi brevi il ponte Morandi ma l'economista Stefano Micossi ribatte che ai tempi del piano Marshall l'amministrazione pubblica non c'era perché l'Italia era stata distrutta dalla guerra mentre oggi c'è e potrebbe benissimo farsi carico se opportunamente indirizzata della buona gestione dei fondi europei non è un dilemma solo italiano Marco Buti in passato direttore per gli affari economici dell'Unione oggi a fianco del commissario Gentiloni ricorda come il problema della governance si stia ponendo in tutti i paesi beneficiari del recovery fund alcuni lo stanno risolvendo concentrando la gestione nelle mani del primo ministro altri delegando i ministri economici altri ancora allestendo apposite strutture tecniche la stessa commissione europea che dovrà firmare un contratto con tutti i 27 paesi dell'Unione si sta dotando di una governance che prevede diversi livelli di responsabilità con il coinvolgimento sia dei vertici politici sia di alcune direzioni generali oltre che del Parlamento il dibattito sul modo migliore di gestire il tesoro in arrivo da Bruxelles è in pieno svolgimento e negli ultimi giorni si è avvalso di contributi competenti come quelli di Romano Prodi Franco Bassanini Innocenzo Cipolletta Sabino Cassese Carlo Cottarelli Fiorella Costoris e altri privati cittadini le cui proposte si possono leggere sui siti di Assonime e della Fondazione Lamalfa sul tema cruciale della governance manca invece un confronto trasparente tra i partiti e in Parlamento Siamo in chiusura grazie Mariolina Sattanino grazie professor Richeldi grazie Massimo Giannini grazie Antonio Padellaro grazie spettatrici e spettatori vi lascio a Diego Bianchi al suo propaganda live quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti